Arresti, ossi e umani sono stati trovati nella serata di ieri a San Giovanni Tiatino, in una zona appartata e non frequentata, su un terreno in mezzo alla vegetazione. Potrebbero appartenere ad un uomo di 58 anni di Ortona. Lo scheletro è stato notato da alcuni ragazzi che si trovavano a transitare e che hanno dato l'allarme. Il luogo del reinvenimento è a una trentina di metri dalla sponda del fiume Vescara, nella parte retrostante del vecchio poligono di Tiro. Sul posto, per i rilevi e per repertare le ossa, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chieti, coordinati dal Maggiore Massimo Capobianco. Secondo gli investigatori, in questa fase non è possibile stabilire nell'età le cause ed il tempo della morte. I resti repertati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria nell'Istituto di Medicina Legale dell'Università d'Annunzio a Chieti, per gli esami di natura medico-legale. Accanto alle ossa è stato rivenuto un portafogli ed una carta d'identità appartenente a Giuseppe Nello Isola, 58 anni di Ortona. Prima di poter attribuire resti al 58enne, si dovranno raccogliere le testimonianze dei familiari dell'uomo e fondamentale sarà il successivo esame del DNA. L'indagine, lo ricordiamo, è coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Mari Caponziani. Sul posto, per prestare assistenza, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Chieti. Nella zona non risultano denunce di scomparsa.